Noi l'abbiamo detto anche oggi che sulla FLAC-TAC per quello che abbiamo conosciuto finora non siamo d'accordo e abbiamo detto che noi siamo pronti e gli presenteremo le nostre proposte per una riforma fiscale perché per noi la riforma fiscale vuol dire che davvero il lavoro dipendente e i pensionati abbiano una riduzione del carico fiscale per noi una lotta all'evasione fiscale non è più un annuncio, deve essere una pratica concreta così come gli abbiamo detto che c'è un problema anche di ricchezza patrimoniale come dice la Banca d'Italia che è 4 volte e mezzo il debito pubblico e siccome quella ricchezza patrimoniale il 50% è detenuta dal 10% gli abbiamo detto che affrontare il fisco non solo vuol dire abbassare le tasse a chi già le paga vuol dire non farle pagare a chi non le ha mai pagate ma soprattutto vuol dire riperdire le risorse per fare gli investimenti pubblici che creano lavoro e che invertono la tendenza a partire dal mezzogiorno.